Avrebbe ucciso Katia nel pieno delle sue facoltamentali. Peter Polverini, il 24enne san giustinese, è arrivato al tribunale di Arezzo scortato dalla polizia penitenziaria e dal carcere aretino di San Benedetto, dove si trova dallo scorso 16 settembre con l'accusa dell'omicidio volontario di Katia Dello Marino. La donna fu ritrovata senza vita con la testa fracassata la mattina del 12 luglio scorso sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. All'origine del delitto ci sarebbe una violenta lite per una presunta prestazione sessuale che Katia avrebbe concesso al giovane per la quale aveva chiesto del denaro. Il gruppo del tribunale di Arezzo, Pier Giorgio Ponticelli, ha respinto la richiesta avanzata dai legali del giovane, ossia rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica. Non ci può stare, per carità è un provvedimento motivato, vediamo. Affronteremo il processo e vedremo. A processo dunque con un rito abbreviato secco, più severo invece il capo di imputazione con un aggravante, la minorata difesa per l'impossibilità della vittima di chiedere aiuto in quanto il delitto si è consumato di notte. Avevamo presentato una memoria al pubblico ministero affinché valutasse nuovamente la sussistenza di determinati aggravanti. La famiglia di Katia di questa giunta ovviamente molto contenta perché era quello che poi si auspicava. In tribunale anche il padre del giovane e la cognata della vittima, la madre e il fratello di Katia si sono costituiti parte civile. La madre e il fratello non se la sentivano di stare all'interno della stessa stanza compita a polverini, sapevano che lui sarebbe stato tradotto dal carcere e quindi hanno preferito non venire. Il rito abbreviato è stato fissato per il 17 marzo.